Saranno 28 i cantanti in gara alla 31esima edizione del Festival dei Nebrodi che da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno si svolgerà al Cineteatro Rosso di San Secondo di Capodorlando. La manifestazione Canora, nata nel marzo del 1985, è ancora oggi organizzata dall'Associazione Airone Spettacoli di Aldo Casilli e ormai diventata un appuntamento fisso per gli artisti del sud Italia. La novità dei bambini che sono stati confermati, poiché in giro ce n'è veramente bravi e quindi abbiamo pensato di riservare questi angoli a loro durante le tre serate. Ce ne saranno due per sera. Confermate le due categorie, canzoni inedite, canzoni inedite e il premio Tano Cua. Il premio Tano Cua è che quest'anno sarà assegnato al professore Sabatino Cariani. Noi contiamo sempre di far divertire la gente e offrire loro dei momenti di spensieratezza, dei momenti così musicalmente felici. L'edizione di quest'anno è stata presentata durante una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni, del presidente del Consiglio Comunale Gianfranco Timpanaro, dell'ideatore e organizzatore Aldo Casilli e ancora dei conduttori Giuseppe Spignola ed Ermin Dardizzone. È sicuramente una sfida professionale molto importante e se esistesse una scala di valutazione della mia professionalità oggi col Festival dei Nebrodi sicuramente aggiungerei ben più di un'attacca. La trentunesima edizione del Festival dei Nebrodi avrà anche grande copertura mediatica. La tre giorni canora sarà infatti seguita in diretta radiofonica da Radio Italia Anni 60. Le serate saranno invece proposte indifferita da Antenna del Mediterraneo.